E' stato ritrovato in tarda serata, nei pressi dell'ospedale dell'Annunziata, il 54enne di Raiano, di regine polacca, che ieri aveva telefonato i carabinieri di Sulmona, minacciando a ritogliersi la vita. Per cinque ore sono partite le ricerche a tappeto nel territorio comunale di Sulmona e Cassel di Sangro. Le forze dell'ordine si sono mobilitate, estendendo le ricerche anche nelle campagne attigue, alla stata alle 17. Nel pomeriggio di ieri si è mosso anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha perlustrato la zona del nosocomio e dell'incoronata, indicata dal 54enne al telefono con i militari. Quando è partita la chiamata ai carabinieri, l'uomo, infatti, si trovava a Sulmona. Alla fine il 54enne è stato recuperato intorno alle 23.30 di ieri sera, nei pressi dell'ospedale di Sulmona, da una squadra dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente in buone condizioni di salute e quello che aveva lanciato si è rivelato un falso allarme. Polizia, carabinieri, forestale e Vigili del Fuoco tirano un respiro di sollievo, come del resto un'intera comunità che stava facendo il tifo per lui.